Buona giornata amici di Fano TV e bentrovati alla rassegna stampa con la quale iniziamo la giornata con la lettura dei giornali il resto del carlino il corriere adriatico per le notizie del giorno ma prima passiamo come sempre attraverso il l'almanacco del giorno e vediamo che si festeggia oggi oggi è la festa del cuore immacolato della beata vergine maria è una festa e che fu istituita nel 1945 da papa pio xiii riprendendo un'antica tradizione che era già coltivata nel medioevo una tradizione che fu resa ancora più attuale dalle apparizioni di fatima e prima ancora fu codificata nel diciassettesimo secolo dal dottore della chiesa san giovanni battista di oed una località della francia dunque oggi si festeggia il cuore immacolato della beata vergine maria le previsioni del tempo si consolida l'alta pressione nella nostra regione garantendo una giornata stabile e assolata nuvole pomeridiane sui rilievi temperature in aumento varieranno dai 16 ai 25 gradi 25 ovviamente la mos e la massima i venti sulle coste spireranno da una direzione di nord nord ovest nell'entroterra invece da ovest sud ovest il sole sorge alle 5 anzi è sotto le 5 e 24 e tramonterà alle 20 e 50 le giornate ancora crescono le ore di luce voglio dire crescono ancora per poco fino al 21 giugno prossimo ed ora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano vediamo l'apertura dedicata ai problemi dell'arzilla questo torrente burrascoso possiamo definire un torrente placido tranquillo un rigagnolo quasi nel giornate di calma ma che sa trasformarsi in un fiume in piena quando arrivano quelle bombe d'acqua che lo riempiano lo gonfiano di ondate di piena l'arzilla fa sempre paura ma nessuno interviene il comitato arzilla viva ha incontrato nei giorni scorsi sindaco e assessore c'è stato un impegno per la cura ordinaria da parte del comune perché questo sarebbe il suo compito le sue competenze altre altri interventi di carattere straordinario spetterebbero alla regione ma qui c'è una diversità di opinioni insomma si rimpallano le responsabilità l'uno con l'altro e l'arzilla rimane sempre un pericolo incombente c'è stato anche un nuovo un nuovo allarme scoppiato alle tre di notte di giovedì scorso quando c'è stato quel piovasco intenso battente sulla città di Fano per fortuna il livello dell'acqua è rimasto all'interno degli argini non ci sono stati problemi ma ovviamente i residenti ci sono svegliati e hanno così passato molto tempo a controllare il livello dell'acqua perché c'era una grossa paura insomma l'arzilla è un problema che deve essere risolto ed ecco perché il comitato preme per tenere alta l'attenzione su questo problema vediamo le altre notizie ci sono tre giorni dedicate alla archeologia a Fano Fano romana da scoprire visite guidate e laboratori sono le giornate europee dell'archeologia ecco perché fa una mostra le sue bellezze le sue antichità in questa occasione l'assessora alla cultura Cora Fattori apre i luoghi della cultura e Fano veramente di luoghi della cultura ne ha molti e ne ha suggestivi il programma odierno prevede dalle 17 alle 20 visite ogni 30 minuti alla domus romana di piazza 20 settembre alle 17 30 la puntata alla Fano sotterranea riguarda l'area archeologica di Sant'Agostino ed è curata dall'archeoclub in insolata alle 21 e 30 ci sarà un laboratorio per bambini nel museo civico intitolato a forma di domus in contemporanea l'apertura straordinaria del palazzo malatestiano che si protrarrà fino alle 23 ma in programma c'è anche una visita all'anfiteatro romano solitamente un luogo non facilmente accessibile anche perché insomma come stato musealizzato lascia molto a desiderare comunque è un luogo importante perché Fano oltre avere un grande tempio nei pressi del foro oltre avere la basilica così come ci dice vitruvio aveva un teatro ed anche un anfiteatro per spettacoli gladiatori qualcosa è rimasto ed è sotto il grande palazzo che è stato realizzato nell'ex area Montevecchio dove si nascondono appunto alcune strutture dell'antico anfiteatro e vediamo anche altre manifestazioni che si svolgono a Fano il doppiatore con grande seguito di fan su youtube si tratta di Maurizio Merluzzo che sarà presente questa sera alla corte del nespolo di palazzo bracci pagani nell'insieme di iniziative che propone generazione futuro una manifestazione un evento organizzato dalla fondazione Carifan vediamo qualche notizia di cronaca a fondo pagina è stato scoperto un traffico di cuccioli tre mesi di carcere per l'autista che è stato sorpreso a trasportare dei piccoli cuccioli in uno scatolone ovviamente senza le condizioni idonee senza alcuna autorizzazione il conducente si tratta di un romeno è finito a processo e ieri c'è la richiesta di condanna i cuccioli furono sequestrati e portati al canile di pesaro ora l'avvocato del romeno ha chiesto la soluzione perché il fatto non dovrebbe costituire reato secondo lui il PM invece ha chiesto tre mesi di reclusione e 3 mila euro di multa e poi c'è stato anche un processo per quanto riguarda il furto di alcune targhe di auto realizzato da alcuni nomadi a bellocchi la notte del 12 agosto del 2020 quindi diversi anni fa il processo è stato aggiornato in autunno andiamo a anzi restiamo restiamo a fano perché sulla pagina valmetauro vediamo un'apertura dedicata a una manifestazione che si svolge al codma ovvero anche i cani hanno la loro passerella 2000 cani sfilano al codma in gara ci sono oltre 170 razze e non è la prima volta che a fano si svolge il market winner questa volta raduna 400 allevatori una esposizione internazionale è uno show di bellezza per le razze canine chi ama gli animali non può non andare a vedere questa bella manifestazione perché poi lì ci sono veramente gli appassionati che misurano osservano e regolano tutte le caratteristiche tutte le norme che devono avere le razze per essere belle e perfette quindi veramente un bello spettacolo accoglie al metauro c'è una grossa novità per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti accoglie al metauro partono i cassonetti stradali otto incontri per le istruzioni cambia la modalità della raccolta dei rifiuti l'ASET invita gli utenti del territorio a partecipare a uno degli otto incontri otto appuntamenti in programma per informare adeguatamente gli utenti delle novità che sono state appunto introdotte da lunedì 3 luglio inizierà il ritiro porta a porta di pressoché tutti i tipi di rifiuto un cambiamento che riguarderà l'intero territorio comunale quindi non ci saranno più i cassonetti con la raccolta differenziata ma ci sarà una raccolta porta a porta di tutti i rifiuti a Mondolfo abbiamo questa notizia di cronaca piuttosto sconsolante atti osceni alla finestra l'allarme di due esercenti si tratta di un giovane che alla finestra si era denudato e compiva degli atti osceni insomma si masturbava di fronte alla gente che passava ebbene è stato denunciato un individuo che si affaccia alla finestra lo vediamo sopra un tavolino che si denuda e mostra le proprie parti intime al pubblico compiendo atti osceni veri e propri atti di esibizionismo compiuti da un giovane del posto alla vista di passanti donne, bambini e anziani come dicevo uno spettacolo certo dequalificante oggi il raduno delle bande domani concerto a Pergola periodo intenso tra progetti ed eventi per la banda cittadina a Escobar oggi alle 18 è ospite del raduno delle bande della provincia promosso da Anbiba a Cagli quindi un bel concerto le bande danno sempre l'idea della festa della giocosità un altro appuntamento terre roveresche percorsi a Orciano 40 foto nella chiesa di San Silvestro oggi domani alle ore 17 appuntamento nella chiesa di San Silvestro con percorsi si tratta di una mostra fotografica allestita dall'officina degli artisti diretta con competenza da Carlo Ceccarelli questo appunto afferma l'articolo ma vediamo anche questo articolo di spalla trasporto locale una bella iniziativa tra Mondolfo e Marotta viene aumentato ci sono più corse per quanto riguarda il trasporto pubblico il sindaco ringrazia la regione e le aziende ebbene le cittadini di Mondolfo e Marotta sono ora più vicine da alcune settimane Adria Busse ha infatti attivato il transito per il centro storico di Mondolfo di ulteriori passaggi di bus della linea 35 pergola Marotta-Fano due nuove corse tanto da Mondolfo che per Marotta quanto altre due dalla stazione ferroviaria di Marotta alla volta di Mondolfo e qua ci sono tutti gli orari per queste nuove iniziative passiamo a Senigallia a Senigallia vediamo un'incursione dei carabinieri in un laboratorio gestito da cinesi e sono state trovate molte irregolarità scoperti cavi non in regola, macchinari fuori legge ed è stato dato lo stop alla dita tessile un cinese nei guai ebbene è stato chiuso un laboratorio tessile a Cesano denunciato il titolare il blitz interforze è scattato giovedì e ha portato il controllo dell'azienda che si trova nella zona industriale di strada della Bruciata il servizio ha visto intervenire carabinieri della compagnia di Senigallia i militari del NAS, del NIL impegnati negli ambienti di lavoro gli ispettori del lavoro e l'azienda sanitaria locale la polizia locale, la guardia di finanza quindi veramente un gruppo di forze comprensivo di diverse specializzazioni durante il controllo sono state scoperte diverse irregolarità riguardanti la sicurezza dei lavoratori ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro dove si parla di aspetti balneari e vediamo che ci sono dei problemi perché la spiaggia manca e il ripascimento non è stato sufficiente prime file di ombrelloni spazzate vie dal mare così non si va più avanti dicono i bagnini bagnini tra Levante e Ponente denunciano interventi inefficienti e al ribasso abbiamo perso postazioni già assegnate già ombrelloni che erano stati affittati ora non ci sono più perché il mare ha mangiato quel tratto di spiaggia e sono stati effettuati nuovi studi sul fenomeno dell'erosione ma se non si realizzano scogliere efficienti in maniera che la forza del mare venga arginata prima di arrivare sulla battigia sarebbe inutile ogni intervento e poi vediamo qui alcuni aspetti del degrado del lungomare di Pesaro da Villa Marina all'ex cifre i due giganti del degrado sono veramente due grandi costruzioni che svettano anche per la loro bruttezza ormai sono diventate veramente molto degradate sul lungomare di Pesaro vediamo qua Villa Marina e vediamo anche lo stabile fattiscente dell'ex cifre l'edificio venduto un anno fa a una impresa edile ma deve essere ancora ristrutturato parcheggio gratis e in pausa pranzo per salvare il commercio dalla crisi è una proposta che fa malandrino Daniele Malandrino ebbene dovrebbe così insomma siccome i commercianti del centro storico stanno languendo hanno bisogno di attirare molti molti più clienti e allora l'amministrazione comunale ci sarà poi un consiglio comunale lunedì prossimo c'è una proposta del consigliere Malandrino che dice ebbene per salvare il commercio diamo due ore senza il ticket per quanto riguarda i parcheggi e anche dieci minuti di tolleranza ebbene sarebbe veramente un bel incentivo per coloro che devono legarsi in centro storico e comunque al momento devono girare prima di trovare un posto libero per porre la macchina se non porlo sempre a pagamento quindi un ticket una tassa in più per il MEF progetti e bandi regolari in arrivo quasi due milioni del PNRR un'altra tranche del 10% che dà ossigeno a cinque grandi interventi che vengono realizzati nel comune di Pesaro si tratta di soldi per compensare gli aumenti che sono stati realizzati creati appunto dal problema sappiamo prima il covid poi la guerra russo-ucraina che ha creato l'aumento delle materie prime chiudiamo il Corriere Adriatico apriamo il resto del Carlino e vediamo come l'apertura riprende il tema della stagione balneare inflazione meteo burocrazia turismo zopo è una intervista rilasciata da Barbara Marcolini che è presidente della Confcommercio di Fano c'è un problema d'aumento di tassi ha dichiarato l'esponente di categoria le tasche ormai sono svuotate la CNA decisivo all'isolamento di questa provincia isolamento si riferisce ai lavori che si stanno compiendo sulla Contessa la strada che unisce le Marche all'Umbria che dirotta tutto il turismo che veniva sulle coste fanesi ora nella bassa Marche nel sud delle Marche perché non potendo transitare sulla Contessa l'alternativa della scheggia è molto complicata è anche pericolosa e quindi ci sono veramente molti problemi che attanagliano il turismo in questa stagione un percorso sofferto ma ora la ciclabile è realtà ieri è stata inaugurata la ciclabile dell'Arzilla una opera contestata dagli ambientalisti perché ha letteralmente ribaltato tutto l'aspetto naturale della pista ciclabile ora c'è un aspetto molto umano oserei dire molto costruito molto artefatto rispetto a quello che era prima ci sono le staccionate c'è uno stabilizzato insomma ci sono opere che hanno cambiato il volto di questa struttura comunque è più agevole il transito per i ciclisti e questa arteria in parte questa piccola arteria in parte è stata inaugurata l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori ha annunciato che presto metterà a mano anche all'altro tratto della ciclabile lungo l'Arzilla quello che arriva fino a via della Paleotta al momento si arriva fino al ponticello che attraversa appunto il torrente e unisce la Paleotta a Gimarra Fano apre le porte a Fido in 2000 a Mark Winner si parla dell'iniziativa che si svolge a Codma da ieri fino a domani i cani saranno i protagonisti di questa manifestazione e poi come non parlare del Festival Passaggi ieri è stato presentato alla Memo dal direttore artistico Giovanni Belfiori insieme al presidente dell'associazione Cesare Carnaroli al sindaco di Fano Massimo Seri poi c'era anche l'assessore al turismo perché Festival Passaggi ha una grande forza di attrazione per il turismo fanese Etienne Lucarelli quasi 200 ospiti una settantina di case editrici coinvolte nell'evento ospiti illustri tra le novità uno spazio speciale al Pincio sarà il salotto del Festival ebbene i numeri sono veramente importanti abbiamo detto 184 ospiti 16 rassegne librarie 96 libri in cartellone 68 case editrici coinvolte 12 sedi in centro storico e lungomare insomma 120 persone nello staff organizzativo tutto a livello di volontariato una grande organizzazione un grande evento che attirerà per cinque giorni dal 21 al 25 giugno l'attenzione sulla editoria che verrà presentata a Fano e addirittura ci sono anche cinque prime nazionali una di queste riguarda Silvio Berlusconi ebbene la morte di Silvio Berlusconi ha fatto sì che si anticipasse la presentazione di un libro a lui dedicato si tratta di Beato Lui Panegirico dell'Arcitaliano Silvio Berlusconi edito da Lunganesi e scritto da Pietrangelo Buttafuoco che sarebbe dovuto uscire alla fine di giugno ma sarà presentato in prima nazionale proprio durante le giornate del festival e poi abbiamo un'accoppiata un po' così particolare quella tra Nando della Chiesa e la cantante Gigliola Cinguetti Nando della Chiesa presenta il suo libro si tratta di un manuale controcorrente di educazione civica e dialogherà su questo proprio con Gigliola Cinguetti insomma vediamo un po' come si cinguetteranno insieme per questo libro e poi abbiamo anche la presentazione di un libro di un collega del Corriere Adriatico si tratta di Luciano Muggia che ha fatto il percorso fino a Santiago di Compostela quello che ha visto quello che ha provato lo ha scritto in un libro Due piedi raccontano le vie per Santiago edito da Cammini verrà presentato appunto nel corso del festival e poi di grandi personaggi televisivi ce ne saranno veramente a Iosa di tutti i settori dall'economia abbiamo Zamagni dalla cultura alla politica insomma veramente ci saranno dei grandi conduttori e ci saranno dei grandi incontri e lo stesso articolo lo troviamo sul Corriere Adriatico per quanto riguarda le pagine regionali vediamo qui il titolo passaggi da grandi numeri 92 libri 142 eventi 184 ospiti la saggistica dal 21 al 25 giugno a Fano San Lorenzo potenziata la raccolta dei rifiuti si tratta della tariffa puntuale un obiettivo che anche l'amministrazione comunale di San Lorenzo in campo cerca di conseguire sappiamo tutti che la tariffa puntuale è quella che verrebbe calcolata e pagata secondo la quantità di rifiuti che una famiglia produce meno rifiuti produce e meno paga a parte il fatto che ci sarà sempre una quota fissa per quanto riguarda lo spazzamento delle strade la raccolta dei rifiuti sulle spiagge insomma tutto quello che serve per un decoro pubblico che rimane ovviamente sempre come cifra nella base della bolletta giriamo ancora la pagina siamo a Urbino ideale festival cortè gourmet e tanta musica una nuova iniziativa di attrazione ad Urbino dal 22 fino al 25 giugno un appuntamento in centro storico sarà dedicato ad Ottaviano Ubaldini e a Federico al Duca Federico sarà presente anche l'arenautica militare per il suo centenario con la fanfara aiuto alle famiglie con figli autistici bando per coprire le spese ebbene questo è un articolo che riguarda le famiglie che purtroppo hanno a che fare con questo problema si può fare domanda per avere dei contributi fino al 30 giugno attraverso un sito specificando quali spese sono state affrontate e soprattutto la diagnosi per cui si chiedono questi contributi vediamo ancora qualche pagina di Pesaro sul resto del Carlino spiagge e alberghi semi vuoti falsa partenza per il turismo pesa la fobia del mare sporco anche qui si andrà avanti così a spizziche e bocconi fino alla fine del mese e il presidente dell'APA Fabrizio Oliva c'è anche chi non vuole il pesce fresco e compra solamente quello su gelato perché crede che la situazione ambientale in cui è vissuto non sia delle migliori e poi ieri c'è stato un incendio un grande timore per un incendio che è scaturito nelle torri di Mulazzani a fuoco contatori fumo ovunque evacuate oltre 50 persone per fortuna qualche lieve danno ma nessuna paura per le persone e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa cosa faccio ora vi auguro una buona giornata e vi do un appuntamento per lunedì prossimo alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci a risonare a risonare a risonare